Io quando vedo Renzi, sua paranzata, io capisco Camusso e Landini che vogliono occupare le fabbriche. C'hanno ragione, perché la situazione è drammatica, ragazzi. È veramente drammatica. Paravo Crozza, guardi, la situazione è drammatica. Susanna Camusso, cosa ci fa qui? Ma la Camusso... Ho sentito che parlava di lavoro e sono voluto intervenire. Ma questo non è mica un tour show, scusi Camusso, forse cercava Floris. L'ho mica visto? Sì, ma era prima, era alle otto e mezza. Ah, sono in ritardo di mezz'ora. Sì. Ma viaggia buono. Sì, non è tanto. Di solito mi dicono che noi del sindacato siamo in ritardo di trent'anni. Mezz'ora per me è un complimento. Ma stai scherzando Susanna? No, c'è anche Landini, vi prego. Ma ci siamo? Ma no, ma adesso... Ciao Susanna! Sì, ciao Susanna, va bene, ma io sono contento che voi siate qui, ma non dovevate occupare le fabbriche. Cosa ci fate qua? Ma stai scherzando? Ma cominciamo da subito a occupare le fabbriche! L'occupiamo, l'occupiamo. Ma l'occupiamo sì, andiamo a Ivrea a occupare l'Olivetti. Eh no, aia, l'Olivetti no, aia, l'Olivetti. Perché aia? No, no, non mi sono fatto male. No, 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 no. Ma guarda che c'è nel sindacato, risolviamo. No, 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 dicevo aia l'Olivetti, perché a Ivrea non c'è più l'ultima fabbrica in Italia, ha chiuso nel 2012. Ma ha chiuso nel 2012? Ma siamo, ma in che anno siamo? Siamo già nel 2000? Landini, ma che c'è... Dai, su! Ma scusi, si ha chiuso l'Olivetti, adesso io dove li trovo? I nastri dell'inchiostro! Ma che inchiostro? Ci sono altri modi per scrivere, Landini! Ormai c'è questa diavoleria del normografo, che come ti fa la C di Camusso, non te la fa nessuno. Ieri ho scritto una lettera di Camusso, sono messo a scrivere una C che... Sì, comunque l'Olivetti ha chiuso, va bene? Allora, se ha chiuso l'Olivetti, sai cosa ti dico? Andiamo a occupare la Omsha, quella delle calze. No, in Italia l'Omsha ha chiuso la Omsha! Sì, ha chiuso anche l'Omsha! Omsha che gambe! Sì, in Italia sì! Ma li trovo ancora in Collanda l'Omsha? No, ma li trovo ancora in Collanda l'Omsha? Mi facevano sentire donna al 100%! Ma li trovo ancora in Collanda l'Omsha? Ma li trovo ancora in Collanda l'Omsha? Ma li trovo ancora in Collanda l'Omsha? Sì, 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 sì! Allora dobbiamo andare a occupare la Indeji, che fanno quelle macchine diaboliche che metti dentro la roba tiepida, la nevi e tiri fuori che è fredda! I frigoriferi! Sì, l'ho già sentito parlare, io però del frigorifero non mi fido. Io uso ancora la ghiacciaia, faccio un buco, una grotta che viene riempito poi di ghiaccio. No, lasci perdere la ghiacciaia, Camusso, comunque anche la Indesit non c'è più! La Indesit non c'è più! Ha chiuso le fabbriche in Italia, la Indesit, ma roba da pazzi! Allora, l'Agostino? È chiusa! La moto Morini? Chiusa! No, ma stai scherzando? Proprio ora che avevo messo da parte i soldi per comprarmi il corsarino che avevo? Mi spiace, la fabbrica è chiusa! Il poster l'ho perso, sono un moto antigenale, io te lo giuro, non ce la posso più fare! Poi ce l'ho una che è rimasta aperta, Ricciarginori. Fallita. Anche la Ricciarginori. No, forse potreste andare alla Bialetti, ecco dove potreste andare. La Bialetti? La Bialetti. Quella è dalla caffettiera Mocca? Sì. Giurami che la Bialetti è ancora aperta! No, è ancora aperta, la Bialetti è ancora aperta, sì sì. Mi piace anche, sai cosa mi piaceva Maurizio? Cosa? A questo punto siete due Maurizzi, mi piaceva l'omino con i baffi che parla, con tutte le letterine al posto della bocca. Eh, hai voglia! Prodotto Bialetti. Prodotto Bialetti, andiamo a Omegna, Susanna, occupiamola a Bialetti. No, 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 c'è un problema, non è più Omegna in Piemonte, non è più lì la Bialetti. E dove le fanno? Dove le fanno? A Ploesti. A Ploesti? Ma dove? Susanna? Non mi ha sentito, in che provincia è? È vicino a Buccarest, in Romania. Ahia! Ma ci stiamo scherzando, dai, come ci arriviamo noi a Buccarest, forza! Ma io, Maurizio, ho il 128, ricordatelo. Hai ragione, me ne dimentico sempre, se c'hai il 128 ci arriviamo in un attimo, in 15 giorni. Il 128 è velocissimo. Ma è velocissimo. Non è velocissimo. Se volete andare. Ma sta a fare il pieno però di Super. Sì. Ma guarda, possiamo ottenere, sì sì, possiamo ottenere una media del 60 all'ora. Ecco, sai cosa facciamo? La Super! Che ci danno anche i bollini! Ci danno anche i bollini! Ci danno anche i bollini! Ma tu non puoi capire come arriviamo a Buccarest? Ecco!